La procura di Agrigento ha chiuso l'indagine e si prepara a chiedere il rinvio a giudizio di 21 persone indagate nell'inchiesta per un presunto giro di spaccio di eroina tra Favara e Canicattì. Secondo la ricostruzione investigativa lo stupefacente arrivava da Palermo grazie al contributo di due corrieri di nazionalità straniera, i quali a volte ingerivano gli ovuli contenenti l'eroina per depistare eventuali controlli e poi i presunti pusher attivi nell'Agrigentino la rivendevano a Canicattì e Favara. In un caso uno degli indagati era stato trovato in possesso di 10 ovuli per quasi 165 grammi di eroina che una volta confezionata avrebbe potuto dare origine a mille dosi. Ora si attende che venga fissata l'udienza preliminare.